che desideri in cuor tuo, di una preghiera con fede e Gesù entrerà nella tua vita. Ecco una preghiera, la dirò prima io. Cristo Signore, ho bisogno di te, grazie di essere morto sulla croce per i miei peccati. Io apro la porta della mia vita e ti accolgo come mio Salvatore e Signore. Affido a te la mia vita, fa di me la persona che tu vuoi che io sia. Se questa preghiera esprime il desiderio del tuo cuore, dilla subito. Prega in silenzio mentre io ripeto una frase alla volta. Cristo Signore, ho bisogno di te. Grazie di essere morto sulla croce per i miei peccati. Io apro la porta della mia vita e ti accolgo come mio Salvatore e Signore. Affido a te la mia vita. Fa di me la persona che tu vuoi che io sia. Amen. Ora che hai detto questa preghiera di fede e che hai invitato Gesù Cristo ad entrare nella tua vita, puoi essere certo che Egli è entrato, poiché promise che sarebbe venuto se tu lo avessi chiamato. Se vuoi avere la vita piena e ricca che Gesù ha promesso, rivolgiti a Lui ogni giorno con la preghiera. Scopri il suo meraviglioso progetto per la tua vita nelle sacre scritture. Anzitutto nel suo insegnamento, nel suo esempio, nella sua grazia, nella sua chiesa. Incontrati con altri che lo amano e lo seguono. Infine, ricordati sempre della sua meravigliosa promessa. Io non vi lascerò mai, non vi abbandonerò. Ecco, io sono con voi ogni giorno, sino alla fine del mondo.